Io sono nato a Tiricciola, Tiricciola è un paesotto delle campagne toscane. Penso che tutte le arti abbiano un punto in comune. Cambia soltanto la maniera di esprimersi. Il pittore ad opera i colori, il danzatore ad opera il suo corpo, il musicista le notte. Perché l'arte serve per tradurre in immagini la dimensione spirituale dell'uomo. Tutta la vita e la complessità della vita di un artista che deve vivere dalla sua arte, con la sua arte. Leopoldo non l'ha mai abbandonata. Leopoldo non l'ha mai abbandonata.